Allora, non l'abbiamo scritta noi, Arimè, l'ha scritta il gruppo che ha fatto la storia nel italiano e soprattutto il Pignano. Stica un altro, Cicciccini. Io so bene! Sì! letto di mirare i speriti!!! ci sono questi amici No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no